Passeggiata dopo cena, adesso non mi dire in cui quartiere siamo, comunque la zona per capirli di Piccadilly e qui parafiera Madonna, in realtà siamo a Londra quindi è probabile che c'è un po' di movimento i bagliori che si vedono in fondo credo che siano proprio quelli di Piccadilly cena senza infamia senza lote in un ristorante di ogni sera all'Angus Steakhouse ci aspetta per me si, me lo rifà, frozen yogurt prego frozen yogurt